Continua senza sosta il lavoro di raccolta del materiale a Teramo da parte dell'associazione Cherigma di Isola del Gran Sasso a sostegno delle famiglie ucraine. In Romania l'associazione è un punto di raccolta e smistamento di tutti i beni in arrivo, ma serve anche denaro per pagare carburante e mezzi che l'associazione raccoglie tramite un conto corrente pubblicato sulla propria pagina Facebook. In questi giorni si stanno però intensificando sempre di più i flussi di cittadini che rischiano di morire di fame. Per questo l'associazione è tornata a lanciare l'appello per la raccolta di beni di prima necessità da inviare alle popolazioni e ai territori colpiti dalla guerra. Dal punto di vista umanitario non solo non è cambiato niente, ma sta peggiorando drasticamente la situazione e perciò comunque finisca dal punto di vista bellico con gli sviluppi di cui si sente parlare. In realtà la situazione umanitaria sta diventando davvero indicibile perché le richieste di aiuto che ci vengono direttamente in Ucraina di soccorso, di alimenti, la possibilità di sopravvivere, 1.200.000 bambini, parliamo di una quantità enorme di persone ammassate sperando e aspettando che succeda qualcosa, è pazzesca per cui non ce la facciamo. Devo dire che c'è stato il cosiddetto calo fisiologico anche negli arrivi degli aiuti per cui siamo in grossa difficoltà perché riuscire a mettere insieme un tir di alimenti sta diventando davvero impossibile, per cui facciamo appello assolutamente alla vostra generosità, alla vostra bontà e soprattutto alla coscienza che abbiamo di persone vicine che stanno morendo di fame per cui fare assolutamente qualcosa. Da Teramo sono partiti anche altri volontari per cercare di dare una mano lì? Sì, ci sono vari canali nel senso di aiuto ma soprattutto sono persone che vanno in Polonia o in Romania per aiutare, direttamente in Ucraina sono pochissimi quelli che riescono ad andare e noi stiamo continuando a sfruttare questo permesso speciale che abbiamo dal governatore di portare direttamente sul campo. Proprio ieri mattina due amici di Kiev che stavano vivendo una situazione veramente senza pane, senza niente, anche per i bambini, sono partiti con un furgone avventurandosi fino ad arrivare finalmente nel nostro magazzino Varfu Campolui in Romania hanno caricato a libero simile ogni possibile angolo del furgone di alimenti per tornare indietro e cercare di sfamare le persone. Ecco, questo è il quadro drammatico in cui stiamo facendo a botte, per cui vi prego martedì, giovedì, sabato dalle 15.30 alle 19 siamo aperti al magazzino. Venite, portate alimenti, portate scatolame, portate tonno, carne in scatola, portate legumi, portate riso, portate acqua. Dobbiamo fare in fretta, mettere insieme il più possibile perché siamo in una fase davvero in cui o li aiutiamo o avremo una strage di persone non morte sotto le bombe ma per fame.